Nel 1876, Leopold, duca d'Albany, era uno scavolo. Rendete moglie. Con poche prospettive. Nel 2001, Kate McKay è una donna che ha successo. Tu sei una rarità tra le donne, Kate. Sei come un uomo. E zero vita sentimentale. Ma a marzo 2002... Sei seduta? Sì. Tutto questo cambierà. Ho trovato un portale per il 1876. Ho seguito il duca d'Albany in giro per la vecchia di New York. E adesso arriva il meglio. Mi ha seguito fino a casa. Dove mi trovo? Sei sempre a Nuova York. Signore, questa non è Nuova York! Temo proprio di sì. Così tu devi essere Sgt. Pepper? Qualcuno lo deve tenere d'occhio. Sei un triplo. Lui non conosce le nostre usanze. Perché ti alzi? Sono ad uso alzarmi quando una signora lascia la tavola. Hai intenzione di rimuoverla? State suggerendo, signora, che vi è una legge che impone ai gentiluomini di porre mano ai prodotti di viscere canini. Ti suggerisco di raccogliere quella merdina subito. Lo devo confessare. È affascinante, cortese. Ti piace, vero? Che? Meg Ryan e Hugh Jackman nella storia di un uomo e una donna. Non pensi sia ora di dirmi chi sei? Sono l'uomo che ama vostra sorella. Che non intendono farsi scoraggiare da qualche secolo di differenza. Devi tornare indietro. Ne voglio ancora un po'. Ancora 1876. Kate e Leopold. Primo marzo 2002.